Manuel, allora primo posto in classifica, ci si sente sempre bene quando si sta in alto, però all'orizzonte c'è questa partita col Palermo, big match della giornata, prima contro seconda. Sì, sicuramente fa piacere essere lì in testa davanti a tutti perché è una cosa meritata che abbiamo fatto con tutte queste partite meritate e sicuramente affronteremo questa partita come è giusto che sia, contro una squadra fortissima e noi rispettiamo tutti e andremo là però per cercare di far punti. Partita complicata in casa di una squadra che come voi nelle ultime settimane è spesso riuscita a segnare gol negli ultimi minuti? Sì, questa è dimostrazione comunque che anche loro sono un bel gruppo e che non molano niente fino alla fine come noi. Non esistono partite semplici, non esistono partite impossibili, a Palermo quella del Barbera sarà una vera e propria prova di maturità per il Pescara? Ogni partita è una prova, poi sicuramente giocare contro una squadra che è sotto solo di un punto a noi e normalmente fa piacere perché è una bella partita, poi a Palermo sicuramente l'atmosfera sarà fantastica perché è un grande stadio, una squadra storica che era in Serie A fino a poco tempo fa. Sei stato grande protagonista nell'ultima gara a Casalinga con quell'azione che poi ha portato al cross di Memusciai per il gol di Mancuso. A proposito di gol, manca un po' a Marras la prima rete con la maglia del Pescara? Sì, sicuramente come ho detto è una cosa che mi manca, che devo cercare di farla più presto, ma non deve essere una cosa che mi crea problemi perché arriverà sicuramente. Nella partita giocata pochi giorni fa all'Adriatico è arrivata una doppietta di Nando del Sole, è un potenziale concorrente in senso buono per te sulla fascia destra? Ma anzi è meglio così perché la concorrenza positiva crea sicuramente spirito di gruppo e ci fa dare sempre il massimo in ogni allenamento. Nando è stato bravissimo, ci ha fatto vincere la partita e ha fatto due grandi gol. 11 giornate di campionato, bilancio positivissimo per il Pescara ma molto positivo anche per Marras che lo scorso anno, ricordiamolo, giocava in Serie C. Sì, io sono soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso, sono tranquillo e cercherò di dare da qui alla fine il massimo di quello che posso dare. Ovviamente l'obiettivo della squadra è importante e stiamo facendo bene. Manuel, altro dato importante dell'ultima gara di campionato con il Lecce, l'aver ritrovato il grande pubblico ma soprattutto il calore della Curva Nord che non era mai mancato ma che nella gara con i Salentini è stato sicuramente molto più rilevante. No, no, si è fatto sentire e ce ne siamo accorti anche noi tutta la squadra e è una cosa importantissima e sicuramente il pubblico da qui alla fine ci potrà dare una grossa mano.